Ho visto Daimons che strisciava Strisciava Daimons canta l'attenzione ha confessato E per i ragazzi io sono Andasciolo con quest'essimo video di Call of Duty Black Ops 3 Oggi siamo con questa esima sfida che spiegherà Daimons Allora ragazzi questo è lo speciale 150 iscritti Come vedete, no voi non potete vederlo perchè possiamo vederlo solo noi Però sia io che Freewave abbiamo il bellissimo Spectra E siamo Forse il Spectra me lo faccio vedere Eccoli qua Bravi ragazzi E Dark forse, forse vincerà per la prima volta nella sua vita a una partita Incredibile E' stata un'idea loro così perchè ci avevano voglia Noi abbiamo il coltello e lui ha le armi che vuole Infatti quindi è stata un'idea loro così perchè ci stava Ok ci sta, si parte in questo nuovissimo speciale a caso Ci siamo ragazzi Speciale 150 iscritti a 163 iscritti perchè siamo a 163 Non ho messo bene le tattiche però Niente granate zi solo coltello No vabbè scusa No zi eh che cazzo se no le mettevo anch'io io non le ho messe Vabbè intanto c'ho le studi Oh oh No no Eh mi spiace Mi spiace tanto Mi spiace tanto Io lo sto distraendo e lui lo E porca puttana Che cazzo Abbiamo Diamonds e Feredi che sono silenziosi Attenzione Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Questa sfida è normale che l'avete scelta voi Ma io sono in positivo Ma io no Affanculo se è la merda Eheheheh che cazzo bene ma non ho detto che sono in positivo guardalo che lezzo che lezzo l'ho visto all'ultimo secondo che merda perché dovete sapere perché l'occultamento di merda che c'è in cazzo in breakups 3 non è come l'advanced warfare qua non si vede cioè quindi è lezzo che palle con il rifer di me si si no lag lag cosa lag si a me l'ha creato vabbè c'ho le trove video no è vero ha laggato però era lui che laggava si sei lezzo va bene no siete arrivati in due dai mi hai visto uno che ho visto ho visto daimovz che strisciava strisciava robe le tattiche anche tu sei pirla se vai col cecchino fan culo eh mi spiace ok basta il cecchino perché se no poi andiamo a perdere non va bene perché se si perde questa sfida non va bene ma cazzo ma no che ripper che pezzo di merda finirti non devi fare più kill che schifo raga che schifo ragazzi io già lo sapevo questa parte verrà tagliata no vabbè io non so così spawn una dubita no minchia via scappiamo scappiamo ma pagherete no vabbè che cosa sudi cazzo ma pagherai stessuti no voglio l'antistordente no che palle sono finito in negativo no no che schifo non posso essere in negativo è legale si è legalissimo no cazzo che palle scappa 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 cazzo ma dai era anche stunnato come mi fattano no tu hai stunnato me che vabbè qualcuno mi ha stunnato no non ti posso stunnare se nella mia stessa squadra ti posso dire invisibile all'ora vabbè tanto non ci vedi sei lezzo sei lezzo si vai ecco eeeh mi spiace non vuoi guardarvi là guardalo lì che pezzi si muove piano piano eeeh scusami c'è come un vecchio guardalo il pezzo cosa lanci le granate lezzo eeeh non so dove sei no che merda eeeh affanculo mi spiace ops dimostra adesso giochiamo stealth no l'ho ferito no tipo oh mi spiace ops dimostra fa lo stealth dimostra l'attenzione ha confessato ma cazzo cazzo però quello da coltello scusa non ha senso eh cazzo si che ha senso dentro si che ha senso eeeh e vabbè ciòco di squadra si 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 fate cagare il cazzo certo ciòco di squadra di merda si che in palle cos'è uccidilo no ma quanto fai cagare zio no che balle che scasso era la macchina rossa eh eh lo vedo eh si no minchia guarda 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 ho visto che si occultava cazzo eh l'ho visto dopo ma cos'è mi spiace epic rove guarda guarda che figata che camper di merda che camper oh non è vero non sono sento qualcuno dietro sento cose esplodere eh no l'hcxd no eccolo l'ho visto mi spiace no cazzo no cazzo sta ricaricando te lo stun te lo eh aaaah cosa fatti che è che mi lancia le brutte cose no mi sono autosperdito no ma cazzo si aggancia si aggancia vai vai a laghi a scorregge vai vai a laghi a scorregge che cazzo di senso ha sta frase laghi a scorregge oh 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 è su è su è su no no cazzo ah mi ha su ma che palle l'arbone di merda se non scivola sto cazzo di riccazza ha finito le punizioni no adesso mi sono chiesto guarda 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 che schiaffato brutta merda guarda guarda mi spiace mi spiace tantissimo ahah ha fatto tutti i tipi no finito ancora no 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 che cazzo ma che schifo però tipo ho tutte le serie possibili immaginabili però vabbè e vaffan oh cazzo via 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 qua sotto parca donna si cos'è no vabbè mettiti sotto sotto qua intanto ma che merda fai schifo che cappella merda che es occhio guabinibile vabbè siete in due come cazzo faccio a prendere vera vaffanculo e vabbè no no ma che cazzo vabbè è peggio stun io non ho parole no perché 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 devo si è bloccato a un certo punto non si capisce mi sa che camper aspetto che si che arriva il ripper comunque devo mettere overclock devo mettere caricatori aumentati non c'è cazzo da fare è che sono brutti c'è io non li metto perché sono brutti i caricatori aumentati così da vedere no c'è tipo il pisellone sull'arma no guarda guarda mi spiega tipo era invisibile è bugato il gioco si è tipo strabuggato che merda perché il gioco si è reso conto che sono talmente pro che automaticamente mi dà di tiro uccidilo uccidilo non riesco e arriva tipo sparato che pezzo di merda tipo rannicchiato nell'angolino tipo stile slamming si 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 stile non bullizzatemi ma dai vabbè retard te lo stunno te lo stunno vai 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 vabbè minchia ti libero a caso oh ma non ti prende ti giuro stai laggando di brutto sono due centimetri non ti prende no 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 arriva da dietro che schifo no di ma questo no io lo voglio vedere nel video quella qui cioè non ha senso minchia guardami guardami no cazzo guarda 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 perché la ragazza è come una sparo eh ma scherzuale si ah l'adrenalina ragazzo di brizzo muo freue di merda I su nooo fai schifo nooo eh no questo non ti riesco ntotzdem eh vabbè che cazzo vuoi vincere guarda l'uomo che arriva come un barbone sei un barbone no dai abbiamo la metà del tuo fronteggio qua ah no no io me ne frego io lo uccido e gli rubo il cuda e lo massacro esatto grande vai ma anche no ma che cazzo laghi come lo schifo no che cazzo è sta roba ti hai preso il cuda yes baby non falla ahhhh non falla ahhhh no va falla mi spiace no vabbè un minuto non ce la facciamo e mi sto abitando minchia muori te il tuo cuda di merda che poi è mio però beh dettagli guardami oh oh ma qua e vabbè ma no che merda deve fare 70 dai 10 secondi ce la posso fare deve fare 70 guarda guarda mi suicido fuori dalla mappa che mamma mia no no mi sei staccato il controller eh ma fanculo mi sei staccato il controller che cazzo eh eh si è rotto il controller perchè si è rovesciato il vino che cazzo è guardatemi la kill pezzi di mare guardami guardami occultoso dietro si si è fanculo eh ragazzi niente per questo episodio è tutto Darga ha vinto perchè vabbè l'avremmo massacrato perchè siete scatti neanche pietà neanche la pietà ma io ho avuto pietà perchè non ho preso il culo inizio partita eh sennò vabbè niente questo speciale è finito loro sono lezzi e niente cioè speciale eh non prendetelo come speciale è qualcosa di a caso e niente riuscite a iscrivetevi e bene ragazzi ciao